Ciao a tutti, chiudiamo oggi le manovre sul braccio. Il mio consiglio è quello di farvi ripetere il movimento avvolgente che era quello di lavorare il braccio in maniera alternata, parte esterna e parte interna, con entrambe le mani e poi con dei sfioramenti finali sull'avambraccio, quasi come a togliere qualcosa, a tirarla via. Vi faccio concludere con questa manualità perché è sia avvolgente che molto piacevole, quindi è bello chiudere un massaggio con questo tipo di manualità. Per oggi è tutto, ci vediamo il prossimo video iniziando le tecniche sulla mano. A presto, ciao!